buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale provo a girare questo tutorial e speriamo che il bimbo me lo fa fare intanto sta dormendo quindi speriamo che non si sveglia così riesco a farvi il tutorial di questo orecchino che avevo fatto un bel po di tempo fa solo che non ho avuto mai il tempo di fare il tutorial e quindi adesso me ne approfitto e vi presento subito i materiali e spero di riuscire in tempo a girarlo allora ci servirà un rivoli da 14 mm delle perle da 3 mm poi ci serviranno dei bicono da 4 mm poi ci serviranno le gem duo le paisley e le super duo che io uso della stessa colorazione che sono le matte velvet dark teal poi ovviamente ci servirà un anellino e una monachella chiuso questa qua e ci serviranno inoltre le tre misure di rocaille della miyuki quindi 80 11 0 e 15 0 che sono le galvanized silver poi come ago io sto usando una coppone numero 10 e come filo sto usando un filo miyuki bene partiamo bene eccoci qui allora come prima cosa dobbiamo inserire sul nostro filo 8 per le scusate 9 per le da 3 mm alternate a 9 rocaille 11 0 poi chiudiamo a cerchio facciamo un paio di nodini e ci portiamo ad uscire da una rocaille qualsiasi adesso prendiamo 5 rocaille 11 0 e saltando la perla ci inseriamo nella rocaille subito dopo e una incastonatura netted quindi questa cosa dobbiamo scusate sì ecco qua questo passaggio dobbiamo farlo per tutto il giro eccoci qui arrivati a questo punto adesso ci portiamo ad uscire dalla perlina di punta di uno degli archetti quindi questa centrale qui prendiamo di nuovo 5 rocaille 11 e ci inseriamo nella perlina di punta dell'archetto successivo e continuiamo con questo passaggio per tutto il giro bene eccoci qui finito anche questo giro facciamo la stessa cosa come nel giro precedente quindi ci portiamo ad uscire dalla perlina centrale di uno degli archetti prendiamo 180 e ci inseriamo nella perlina centrale dell'archetto successivo però senza tirare il filo lasciamo così facciamo questo passaggio per tutto il giro eccoci qui finito anche questo giro prendiamo il nostro rivoli e lo mettiamo a testa in giù così e tiriamo piano piano il filo vedete la nostra incastonatura si stringe adesso dobbiamo ripassare in quest'ultimo giro senza inserire nulla e tirare bene bene il filo finché l'incastonatura rimane ben ferma e stretta ecco qui come vedete la mia incastonatura è ben ferma e rimane stabile adesso ci portiamo ad uscire ecco qua da queste rocaille in questo modo e poi dalla perlina di incrocio sul lato del lavoro ecco in questo modo e adesso scusate ma non mi ricordo i passaggi perché avevo fatti un po di tempo fa quindi adesso dobbiamo prendere che io non ho neanche preparato scusate quindi leggendo e le paisley eccomi qui allora adesso dobbiamo prendere una 11 una gem duo e una rocaille 11 ecco in questo modo e ci inseriamo nella perlina d'incrocio successiva ecco qui adesso dobbiamo prendere una paisley al contrario di quella appena inserita quindi in questo modo e ci inseriamo nella perlina d'incrocio successiva ecco qui non vi preoccupate che si vede il filo perché poi questi spazi noi li copriamo con le perline quindi non si vedrà più nulla oppure per la vostra sicurezza se volete potete utilizzare un filo dello stesso colore delle perline bene adesso continuiamo con questi tre passaggi alternati per completare tutto il giro eccoci qui finito il giro ovviamente questa è stata l'ultima perlina che ho inserito e mi sono spostata tra le perline attraversando la 11 0 gem 2 e la 11 0 infatti sto uscendo dalla 11 0 adesso prendiamo una 80 e ci inseriamo nel foro basso della paisley come dicevo dobbiamo coprire quelli spazietti di nuovo prendiamo prendiamo una 80 e ci inseriamo nel foro basso della paisley successiva prendiamo di nuovo una 80 e adesso ci inseriamo ecco nella 11 gem 2 e 11 subito dopo ecco vedete in tutta la sequenza e tiriamo il filo ecco vedete in questo modo continuiamo così per tutto il giro eccoci qui è finito anche questo giro mi sto portando ad uscire da questa rocaille 8 0 tra le due super duo adesso prendiamo 3 rocaille 11 e ci inseriamo nel foro alto della paisley poi adesso prendiamo una 11 come al solito non ho preparato le perline eccomi una 11 due super duo una 11 e ci inseriamo nel foro alto della gem 2 di nuovo prendiamo una 11 due super duo e un'altra 11 e ci inseriamo nel foro alto della paisley qui prendiamo 3 rocaille 11 e dai eccomi sono rimasta qui e ci inseriamo nella 80 tra le due paisley e ovviamente non faremo altro che ripetere questi passaggi per completare il nostro giro eccoci qui arrivati a questo punto mi sto portando ad uscire da queste tre penso no ovviamente no devo tornare indietro di una ecco qua quindi dobbiamo portarci ad uscire dalle prime due 11 0 subito dopo la 80 dove c'è questo spazio qui adesso prendiamo una gem 2 in questo modo e la portiamo vicino al lavoro ecco qui adesso prendiamo 4 rocaille 11 e ci inseriamo nel foro libero tiriamo il filo e adesso ci ci inseriamo in questa rocaille 11 qui ecco vedete in questo modo quindi anche se lavoriamo al contrario oppure se vi è più facile girate il lavoro anche sul retro e quindi continuate così ad inserire la gem 2 qui e qui ovviamente mi sono dimenticata una cosa importante quando nel giro che abbiamo appena fatto infatti io l'ho finito e poi me ne sono accorta che mentre inseriamo le gem 2 anche qui sopra le gem 2 inserite all'inizio dobbiamo fare un archetto sopra di 3 rocaille quindi uscendo da questa rocaille dopo le super duo prendiamo 3 rocaille 11 e ci inseriamo nella rocaille e nel super 2 subito dopo e poi ovviamente attraversiamo e qui inseriamo la gem 2 qui facciamo l'archetto di 3 per non fare due giri separati diciamo per esempio io adesso ho inserito già le gem 2 quindi faccio un altro giro per fare questi archetti se siete andati avanti o comunque per maggiore rinforzamento del lavoro se volete chiamarlo così potete fare questi due passaggi separate oppure fate tutto in un unico passaggio sì mamma allora nel frattempo si è svegliato il bimbo però sta tranquillo per adesso allora finito anche quello quel giro di archetti sopra le gem 2 ecco sto combinando proprio un disastro che qui è andato sul retro non capisco il perché ok quindi adesso sto uscendo come vedete da queste quattro rocaille sopra la gem 2 prendiamo una rocaille un bicono e 2 rocaille 11 io giro il lavoro per comodità e ci inseriamo sì mamma ci inseriamo nella prima super duo foro superiore sim tra le super duo dobbiamo inserire un bimbo dobbiamo inserire una 80 si aspetta un attimo mamma si lo so è dura e adesso dobbiamo prendere due rocaille 11 il bimbo che sta muovendo tutto ecco e ci inseriamo nella perlina di punta di questo archetto prendiamo di nuovo due rocaille 11 e ci inseriamo nella prima super duo ecco qui qui ovviamente di nuovo un 80 tra le super duo e qui prendiamo due rocaille 11 un bicono e una rocaille 11 e ci inseriamo in queste quattro rocaille sopra la gem 2 le attraversiamo tutte ecco vedete adesso non facciamo altro che ripetere questi passaggi per tutto il giro eccoci qua scusate il sottofondo sicuramente sentirete i cartoni animati però almeno così il bimbo mi fa finire questo tutorial bene finito questo giro io adesso per inserire la mia monachella come vedete l'anellino inserirò in uno di questi spazietti vedete che qui e qui non l'ho fatto solo qui inserirò una 80 aspetta un attimo mamma inserirò una 80 dove inserisco il l'anellino e poi la monachella quindi ok allora come stavo dicendo uscendo da queste due rocaille prendiamo una 80 e ci inseriamo nelle due rocaille successive se ci riesco ecco qua ovviamente solo qui per agganciare la nostra monachella adesso dobbiamo fare la decorazione quindi se volete potete lasciarlo così però a me sembra un po' incompletto se possiamo dire quindi dobbiamo fare questa decorazione con le 11 0 qui dove sono le super 2 la gem 2 e in più questa decorazione con le 15 0 sotto questa gem 2 quindi mi sto ripetendo quindi 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 attraversiamo le perline ok quindi stavo dicendo attraversiamo le perline per portarci ad uscire da queste due rocaille prima delle super 2 adesso dobbiamo prendere 6 rocaille 11 0 e ci inseriamo nel foro basso di questa gem 2 aia ovviamente riesco sempre a farmi del male con l'ago oh ce l'ho fatto ecco qui vedete in questa gem 2 qui e tiriamo il filo vedete in questo modo adesso prendiamo di nuovo 6 rocaille 11 4 5 e 6 e ci inseriamo io giro il lavoro per comodità come vedete ci dobbiamo inserire in queste due rocaille qui subito dopo questa coppia di super duo ecco qua e tiriamo il filo vedete quindi facciamo questa decorazione ancora per due volte qui e qui e poi ci vedremo con l'altra decorazione ok eccomi qui allora finita questa decorazione adesso dobbiamo fare l'altra preparo le 15 0 che questo dobbiamo farlo con le 15 0 quindi due allora uscendo da questa rocaille 8 0 qui vedete sotto la gem 2 questa messa orizzontale prendiamo due 15 0 e ci dobbiamo inserire in queste due rocaille dell'incastonatura spero che si riesce a vedere ecco in questo modo vedete adesso ci inseriamo in questa perlina dell'incastonatura in queste due rocaille qui dal dal basso verso l'alto ok adesso prendiamo di nuovo due rocaille 15 ecco e ci inseriamo nella 8 0 da dove siamo usciti all'inizio ecco vedete in questo modo e tiriamo il filo ecco vedete si copre che vi stai fermo così si si forma si copre questo piccolo spazio qui ecco non so come spiegarvi in modo che non si vede nel filo né questo spazietto qui vedete questo qua quindi adesso dobbiamo fare questo passaggio qui e qui e ci vediamo dopo eccoci qui con la decorazione finita ecco qua e il nostro orecchino ovviamente è pronto come vedete ciò la 80 qui dove inserisco l'anellino e poi la monachella e intanto volevo farvi vedere come faccio io i nodini come chiudo il lavoro allora intanto mi allontano un po quindi passo ancora un po tra le perline e vi faccio un esempio qui come faccio i nodini qui che sicuramente non si vedrà perché poi io mi inserisco nella perla allora entro con l'ago sotto tra la perla e la rocaille come vedete così e non tiro bene il filo ma lascio questa solina in cui io mi inserisco con il mio ago vedete e poi tiro il filo e tiro bene vedete il mio nodino si è fatto e non non si vede neanche poi io non faccio mai due nodini uno dopo l'altro perché si vede e non mi piace quindi attraverso di nuovo una perlina e una rocaille e faccio la stessa cosa per più volte vedete di nuovo tiro entro nella solina qui e poi tiro il filo ecco qui io così faccio i nodi poi magari mi inserisco anche di qua nel giro esterno e faccio sempre almeno cinque nodi io lavoro così ci sono chi magari li fa per esempio qui oppure sul retro dove non si vede che fanno cinque nodi tutti insieme tutti nello stesso spazietto dove si finisce diciamo a me non piace io preferisco fare un nodo qui attraverso un po di perline ne faccio un altro e così via e secondo me è più sicuro in questo modo però ovviamente ognuno fa come come si sente più comodo come gli piace di più come come abituato a fare ecco per esempio poi anche qui vado sul retro come vedete e mi inserisco tra le due rocaille ecco qua di nuovo la famosa asolina che non tiro bene il filo mi inserisco con l'ago e adesso tiro bene il filo vedete non si vede assolutamente niente e continuo così almeno per cinque nodi per essere sicura che il mio lavoro non non si aprono i nodi e non si disfa ed eccomi qui ho finito i nodini e adesso mi manca solo la monachella e l'anellino che non ho inserito la monachella perché ovviamente mi sono dimenticata di prendere le pinze con me che sono nell'altra camera quindi va bene così niente questo è tutto spero che questo progetto vi piace aspetto di vedere con ansia le vostre magnifiche versioni ti mando un bacio e al prossimo tutorial ciao ciao